Musica Ben trovati a questo nuovo format della Prima TV. Per la Prima TV parliamo di estate, l'estate è la stagione più bella dell'anno, il momento in cui il contatto con la natura è molto più piacevole, ma è anche il momento in cui tutti i nodi vengono al pettine. Noi parliamo oggi di Marina di Acate e lo facciamo con Riccardo Zingaro, vice coordinatore provinciale delle guardie zoofile di Ragusa, nonché volontario dell'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animale di Acate. Buonasera. Buonasera Carmela. Allora, parliamo intanto di Marina di Acate, di tutti i problemi che lei ha denunciato. Io inizierei con le spiagge e il mare. Dunque, le spiagge e Marina di Acate è sempre stato un problema per qualsiasi amministrazione, essendo una frazione marinara che viene vissuta sia dai residenti che dai turisti per due o tre mesi l'anno. Quindi, per tutta la rimanenza dei mesi, questo grazioso borgo marinaro vive completamente isolata dal resto del mondo, con tutte le sue problematiche che sono tra l'altro salite alla ribalta, come sfruttamento del lavoro e altri episodi molto più gravi, che hanno anche, diciamo, gettato delle ombre sulla nostra comunità. Quindi, cerchiamo sempre di concentrarci sui tre mesi l'anno e cercare di risolvere i problemi che ci portiamo avanti da decenni, facendo finta che tutto vada bene. Facendo finta che tutto vada bene. Il problema è che si portano avanti dei problemi atavici, come le discariche, come i rifiuti gettati dagli impianti serricoli, che si trovano in numero elevato in questa zona, e altre problematiche, come della mancanza di servizi e di primaria necessità per qualsiasi attività balneare, come, diciamo, anche dei bagni pubblici, per esempio. Lei ha fatto anche vedere delle immagini, ha ripreso tutto questo degrado, quindi denunciando un po' la situazione che si registra in quelle zone. Sì, io vivo Marina di Accate, diciamo, 12 mesi l'anno, perché, essendo volontario dell'OIPA, seguo i cani selvatici che abitano in questo territorio. Quindi cerco di approcciarmi con loro in modo da poterli abituare con la presenza degli esseri umani nella stagione estiva. Perché teniamo conto che questi cani sono dei veri e propri branchi, che non hanno mai contatto con le persone, e che quindi hanno bisogno di essere socializzati e quindi preparati anche per non creare problemi poi ai villeggianti. Un problema veramente serio è anche l'inquinamento del mare, visto che appunto tutto quello che le aziende agricole spesso dismettono lo vanno poi a scaricare in mare. Sì, quello che io mi batto, essendo anche, tra l'altro, sono amministratore di un gruppo Facebook che si chiama Uniti contro il male oscuro, che si occupa appunto di problemi che sono vicini ai casi tumorali. Cioè non ci scordiamo che le famose fumarole che noi purtroppo ormai viviamo, siamo abituati a subire. Come se facessero ormai parte del nostro risultato quotidiano. Sì, sì, la gente invece di aprire le finestre… Invece sono molto pericolose. Sì, sì, perché noi non dimentichiamo mai qual è la pericolosità cancerogena di queste sostanze che vengono emesse nell'aria perché sono dovute. La diossina è uno di questi elementi che appunto va a provocare. Sostanze che vengono accumulate anno per anno, anno per anno e creano dei problemi gravissimi sia all'ecosistema che alla salute delle persone. Ma perché non si riesce a mettere un freno a questo fenomeno? Perché fra l'altro parliamo di un fenomeno veramente grave per la salute pubblica. Sì, diciamo che il problema è per esempio delle famose dune di plastica. Noi abbiamo un territorio unico nel suo panorama. Abbiamo praticamente 7 chilometri di costa di cui la metà sono sotto sequestro. Queste sono state dovute praticamente a delle azioni sconsiderate. Durante gli anni 70, che io lo tornerei indietro, quando gli impianti serricoli avevano avuto il loro boom economico in questa fascia e non si pensava certo alle problematiche che avrebbero poi creato negli anni. Le problematiche sono state che questa plastica noi la troviamo sulle dune, ricoperta addirittura dalla vegetazione, come se la natura voleva proteggere questo territorio. Inoltre penso che ci sia proprio un errore di programmazione, un errore di base. Noi non conosciamo ancora i termini e i limiti territoriali, per esempio, del demanio. Dovrebbero essere di nuovo ridisegnati i limiti del demanio, in modo da sapere di preciso queste aziende dove sorgono e dove non sorgono, diciamo a chi appartengono. Sono proprio a contatto con la spiaggia. Purtroppo sono un pugno nell'occhio. Per chi viene, abbiamo una spiaggia stupenda, unico nel suo genere, però ci giriamo dall'altro lato. Invece di vedere queste famose dune, che sono caratteristiche del Mediterraneo, noi vediamo queste serre che proprio si affacciano e gettano spesso i loro rifiuti proprio a ridosso della spiaggia. Ma in questo caso, quando si parla di fumarole, quello che avviene è che la plastica dismessa viene poi data alle fiamme. Il problema è che, ecco, sì, la plastica e i residui, perché alla fine di ogni campagna vengono tutti raccolti i residui della... Ovviamente ha dei costi anche questo, lo smaltimento, e quindi spesso si cerca la via più veloce per liberarsi. Sì, ma infatti io dico sempre, dobbiamo partire da una cultura fatta alla base, cioè quello che dicevo sempre alle amministrazioni, cominciate ad entrare nelle aziende, fate un censimento delle aziende, incominciate a parlare con i produttori e cercare di capire quali sono le problematiche. Se io compro questo medicinale, se io compro questa plastica, devo saperla pure dove andarla a smaltire. Quindi delle isole ecologiche, dei punti, dei centri di raccolta, che possono aiutare il produttore a portarla in delle zone, degli stoccaggi, come è previsto dalla legge, invece di bruciarle nel nostro territorio. Per quanto riguarda invece la spiaggia, qual è la situazione? Lei parlava di discariche, ovviamente si riferiva anche ai prodotti dismessi che spesso vengono buttati. Mi ricordo un filmato pubblicato da lei su un social in cui c'era questo mare di pomodori rossi, buttato proprio sulla spiaggia, quindi chi vuole andare a fare il bagno sicuramente deve anche… Sì, sì, se non deve darti un tuttuccio, il problema è che c'è la consapevolezza di poter fare quello che si vuole. Si apre la serra che si affaccia sul mare e si getta di tutto, si brucia, si face, si mischia il legale dall'illegale. Ovviamente parliamo di un inquinamento importante che comunque va a… Sì, quelli sono residui organici, diciamo bene o male il pomodoro, però il problema è che teniamo sempre conto che in mezzo poi c'è la bottiglietta del fitofarmaco, c'è la manichetta, che fa? Non ce la buttiamo, infatti poi i resti li vediamo benissimo, non solo soltanto di residui organici, ma sono anche di sostanze plastiche. Un altro problema da lei sollevato proprio di recente è quello che riguarda i massi all'interno del mare, quindi col rischio anche di farsi male per chi voleva anche andare a prendere un bagno, insomma a fare una… Sì, appunto ogni anno esce sempre fuori un problema che adesso non so dire se è recente oppure dovuto a qualche azione fatta nel passato, però la verità è che sono riaffiorati sul lungomare domenica scorsa questi massi enormi di cemento armato, che erano evidentemente dovuti a… sono resti di lavorazione fatti sul lungomare e poi buttati inconsciamente, io direi illegalmente, quindi molti bagnati si sono fatti male, non si capisce che ogni gesta, ogni azione corrisponde a una reazione che purtroppo va a danneggiare un nostro vicino inconsapevole di quello che abbiamo fatto. Parliamo delle strade di accesso, è facile arrivare al mare? Le strade di accesso sì, diciamo solo fa, la segnaletica è un po' obsoleta, in quanto noi arriviamo dalla 115 e spesso gli incroci sono un po' pericolosi, sono ancora diciamo fermi a 40 anni fa, qualche tabella a stento si riesce a riconoscere e quindi per chi viene da fuori, certo il turista non è facilitato a trovare questa spiaggia che per noi acatesi è un posto stupendo, però potrebbe diventare un qualcosa di importante anche per l'economia locale. Marina di Acate è molto frequentata d'estate? Allora io sono da 30 anni qua ad Acate, posso dire che sto assistendo a un lento declino proprio, cioè 30 anni fa questa spiaggia era la meta turistica soprattutto di gente che veniva da Caltagirone, Enna, avevano la casa tutti quanti qua, era una frazione che proprio popolava di gente, di giovani, adesso è diventato, io dico sempre un posto per vecchi, cioè teniamo conto che quest'anno abbiamo un solo lido aperto sui tre che erano persistenti, quindi potrei pensare che non abbiamo nessuna offerta, soprattutto per i giovani che sono costretti ad emigrare nei paesi vicini anche a rischio della propria incolumità, mentre potremmo averli nella nostra spiaggia. Per quanto riguarda invece il discorso di insabbiamento delle strade, sembra che sia stato comunque da questo punto di vista ripulita la zona, perché all'inizio della stagione ancora si presentava in condizione non decorosa. No, non si poteva passare proprio, infatti noi il problema è che ogni anno ci si arriva a pulire, a rendere fruibili proprio le strade Maria di Acate nel mese di luglio, cioè noi abbiamo luglio e agosto in poche parole, tutti gli altri mesi che facciamo, cioè ecco quindi le amministrazioni dovrebbero muoversi prima, poi non abbiamo ancora, non sono ancora riusciti a trovare un sistema per evitare che là con il vento, con lo scirocco, il vento che porti tutta la spiaggia, la sabbia sulla spiaggia rendendola, cioè noi abbiamo poi, quando tira il vento forte a Maria di Acate diventa impraticabile in poche parole, quindi non sono ancora riusciti a trovare il sistema per poter arginare questo fenomeno. Lei è particolarmente affezionato a Marina di Acate, l'abbiamo capito dalle sue parole, ma lo consiglierebbe a chi magari non è del posto? Allora, sinceramente con i servizi che abbiamo attualmente no, perché è impensabile che non ci siano delle docce, siamo già quasi a metà luglio, ancora non ci sono delle docce. Le passerelle ancora devono essere ultimate, quindi teniamo conto che per un disabile poter accedere alla spiaggia è impossibile. Mancano i servizi igienici, quindi soprattutto mancano anche adesso dei cestini, come vediamo in tutte le spiagge, in modo che il bagnante possa riporre alla fine della giornata i propri rifiuti. Quindi i rifiuti che vengono lasciati, sono lasciati. Un altro problema appunto da me sollevato sono le discariche che si trovano ovunque. Noi diamo la possibilità, io dico sempre, diamo la possibilità al cittadino di comportarsi male, perché se viene da me, molte volte mi vengono i turisti sapendo che mi occupo di questo settore, Riccardo dice noi vogliamo comportarci in una certa maniera, ma dateci la possibilità di poter gettare, di conferire rifiuti, bottiglie di vetro, plastica, nei contenitori che non abbiamo, perché i contenitori attualmente sono messi solo sul lungomare e sono pochissimi, non possono sopperire al fabbisogno di tutta la gente. Quindi l'organizzazione e la strutturazione deve essere anche per poter evitare che poi ci si inquinino le spiagge. Ci spostiamo verso la città, la situazione cambia? Allora teniamo conto, ripeto, questa amministrazione si è sediata da un anno, e quindi con tutte le problematiche di un comune in dissesto sta cercando pian piano di riprendere la sua autonomia. I problemi sono come quelli di ogni anno, sempre l'acqua che viene a mancare, perché è una battaglia che si portano avanti però tutte le amministrazioni. Ma perché non si riesce comunque ad avere una propria autonomia da questo punto di vista? Perché l'acqua fra l'altro non è potabile, insomma. Sì, perché ho notato che ogni amministrazione ha una propria idea, è bella, precisa. C'è chi voleva prendere l'acqua dalla Diga e Rogoleto, chi si è opposto perché dice che era inquinata, chi ha messo un depuratore e voleva prendere l'acqua dei pozzi. L'acqua dei pozzi aveva un costo e quindi certe volte veniva a mancare e non ultimo si sente parlare di accedere all'acqua della Sicilacque. Quindi dover avere l'acqua a pagamento, io sono contrario perché dico sempre che l'acqua è un bene comune e difficilmente... Non si può mettere a pagamento. Infatti, però ripeto anche con tutte le problematiche che noi cittadini non conosce, perché con l'acqua potabile dobbiamo anche tener conto del livello batterico, dobbiamo tener conto dei contatori. Noi non abbiamo i contatori dell'acqua, l'acqua è a forfè. Quindi anche quello determina uno spreco. La gente la utilizza così, come meglio crede. Cos'altro c'è comunque che si può registrare in città? Lei fra l'altro comunque ha denunciato anche dei casi di avvelenamento per quanto riguarda il discorso randagismo. In questi casi, spesso per affrontare questo problema, si pensa che l'unica soluzione è avvelenare l'animale. Sì, io come volontario dell'OIPA cerco di dare una cultura, una cultura che abitui l'essere umano a poter coinvivere con gli animali. Il cane randaggio purtroppo crea un problema, crea un problema alla cittadinanza perché c'è chi dà fastidio e crea una spesa all'amministrazione perché ogni cane costa all'amministrazione, se portato in un canile, circa 6-7 euro al giorno. La sterilizzazione perché non decolla? La sterilizzazione noi dipendiamo da Vittoria. Vittoria sappiamo delle problematiche peggiori di quelle nostre. La sterilizzazione è stata ferma per parecchi mesi. Ora è ricominciata, però prima di poter portare dei cani microcippari, perché teniamo conto di una cosa, ricordiamoci sempre che il randaggio è di proprietà dell'amministrazione. Il responsabile dei cani vaganti è il sindaco. Quindi ci vogliono dei punti fermi che ho presentato in Consiglio Comunale, una programmazione che permette innanzitutto alla base di risolvere il problema il randagismo e dovuto anche a cani di proprietà che non vengono microcippati. Il comune cittadino gli regala il cagnolino alla figlia, poi si scoccia e lo lascia in giro. Quindi ci sono delle problematiche che vanno risolte alla base, quindi microcippatura soprattutto dei cani di proprietà, controllo della microcippatura dei cani di proprietà e poi microcippatura dei cani che sono randaggi e sterilizzazione, perché dobbiamo arginare questo fenomeno. In estate è il momento in cui si regista maggiormente il fenomeno dell'abbandono dei cani. Sì, certo. Anche ad Acate è così? Sì, sì. Io proprio una settimana fa fortunatamente sono riuscito ad adottare dei cuccioli che erano stati abbandonati proprio sulla strada principale di Acate. E ripeto, sono stato fortunato grazie ai social anche, perché oggi i social danno una grossa mano. Perché noi volontari si spendono tutto l'anno, noi siamo pochissimi, sono io e altre due ragazze, altre due signore che ci occupiamo giornalmente dei cani. Quindi abbiamo delle spese, non veniamo aiutati da nessuno. Però il volontario non si può sostituire le amministrazioni. Noi dobbiamo collaborare, come la legge impone, con le amministrazioni. Le amministrazioni devono utilizzare la nostra esperienza, perché tra l'altro a livello di leggi, soprattutto io che mi occupo anche del settore delle guardie ecozofile, quindi ho delle competenze più specifiche sull'approccio dei cani e sulle leggi in relazione ai fenomeni di randagismo. Tra l'altro in questo caso, quando si abbandona un animale per strada, c'è anche il rischio che, al di là del fatto che rischia la vita l'animale, ma anche le persone che magari se lo ritrovano davanti. Il problema è proprio quello, molti ciclisti hanno fatto degli incidenti, quindi sono tante correlazioni. Il cane poi se viene investito deve essere soccorso e dà delle spese notevoli, anche per essere portato alla clinica, quindi delle cure. Quindi perché non pensarci prima? Noi non abbiamo uno stallo provvisorio ad Acate, che è posto per legge? Acate dovrebbe avere uno stallo provvisorio per 10 cani, cioè se io trovo il cane ferito o il cane che deve essere sterilizzato, posso portarlo nella struttura nostra, oppure avere delle strutture dove poter tenere i cani in sicurezza, e riportare per esempio avanti anche il discorso del cane di quartiere come a Vittoria, cioè dei cani sterilizzati e rimessi nel territorio, perché non ci scordiamo che le linee guide dell'assessore sono quelli, i cani devono essere rimessi nel territorio dove sono. Possiamo chiudere dando dei consigli su come risolvere queste, quelle che noi abbiamo denunciato, che sono le più grosse problematiche che il territorio di Acate vive in estate, ma non solo, anche d'inverno ci sono le stesse problematiche bene o male. Io dico soprattutto, dico sempre, ci vuole un delegato per Marina di Acate, una persona che si occupi per 360 giorni l'anno di Marina di Acate, perché teniamoci conto che abbiamo 4 mila, si parla di 4 mila invisibili a Marina di Acate, quindi è una popolazione che rimane nel sommerso. Per quanto riguarda le discariche abusive, anche sarebbe utile poter utilizzare delle applicazioni. La videosorveglianza in questo caso può essere utile? La videosorveglianza è partita con delle fototrappole da qualche giorno, il risultato che si è avuto è che l'indomani, messe alla focidiera, l'hanno bruciato tutto, quindi non sono servite… Sì, anche perché poi ho trovato delle discordanze, per esempio hanno verbalizzato solo 3 persone nel mese di giugno… Troppo poche rispetto a… Sì, tra l'altro con delle cifre risorse 100 euro, e li ho confrontati invece alla polizia, l'indomani la polizia provinciale ha fatto le stesse operazioni, si parla di verbali 600 euro e denuncia all'autorità giudiziaria perché il rifiuto… Allora vorrei capire come funziona questa cosa, vengono usate due pesi e due misure, la legge non so… La legge c'è, io dico sempre che le leggi ci sono… Stiamo parlando fra l'altro di reati ambientali, Sono reati ambientali, sì, perfetto, allora io dico una cosa, le leggi ci sono, noi siamo un comune plastic free, incominciamo ad abituare alla gente che nel 2021 non dovremmo fare uso della plastica monouso, ma ancora questo non si vede, ed è legge, quello dico io. Tra l'altro i mari sono anche pieni di plastica, l'abbiamo visto e constatato anche con tanti animali che sono stati trovati morti sulle spiagge per aver ingerito troppa plastica. Sì, plastica, reati, io ho un altro problema che avevo evidenziato, era quello delle reti di pescatori abusivi, e il ministro Costa infatti proprio l'altro giorno aveva promosso un'iniziativa dove faceva vedere che le reti abbandonate nell'acqua erano delle proprie trappole, sia per i bagnanti ma soprattutto per le specie marine, perché non sono biodegradabili, cioè la rete nell'acqua poi distrugge tutti gli esseri viventi che abitano lì in fondo al mare. Noi ringraziamo Riccardo Zingaro, volontario dell'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animale di Acate. Ovviamente non ci limitiamo soltanto a discutere delle problematiche di Marina di Acate, ma siamo anche andati nei luoghi del degrado. Ci troviamo nella foce di Rillo, lungo la strada che porta a Marina di Acate. Qui il degrado è veramente incredibile, troviamo dalla plastica dismessa alle piante di fine raccolta che vengono qui ammassate e poi in alcune case addirittura di si dà fuoco. Riccardo? Sì, come potete notare questo è un regalo che ci hanno fatto i produttori della zona. Guardate che ammasso che c'è, tenete conto che là sotto ci sono qualche metro di vuoto, era di vuoto, c'erano solo i rifiuti. Adesso guardate, per trasportare tutta questa roba, c'è, io non penso che ci sia voluto un giorno. Da là, notate la plastica, i fili delle serre dove tengono i lacci in cui tengono praticamente le piante e sotto c'è tutto un letto di rifiuti, di rifiuti buttati che vanno a finire a mare che è a pochi metri là sotto. Quindi una zona altamente inquinata questa? Sì, sì, una zona altamente inquinata. Infatti i livelli di escoliacoli sono schizzati nel giro di maggio e giugno, sono schizzati più o meno tre volte. Quindi vuol dire che il livello di inquinamento è al massimo. C'è un divietto di balneazione, però non credo che questo possa limitarsi a questo problema. Ma voi avete comunque segnalato questa situazione al Comune? Sì, il Comune purtroppo l'abbiamo segnalato, sono venuti anche dei politici locali a sollecitare la Prefettura, a sollecitare dei controlli, però i risultati sono questi. La Polizia Provinciale continua a fare verbali, però questa è terra di nessuno. Quindi il problema non può essere risolto dalle amministrazioni, ma ci vuole un intervento o dalla Regione, addirittura dal Governo centrale per bonificare queste zone che ormai raggiungono il livello di tossicità, tenete conto che qua ci sono fitofarmaci pure, ai massimi livelli. Ci spostiamo, andiamo a vedere com'è la zona della Foce? Sì, sì, certo. Dopo aver percorso tutta questa strada siamo finalmente arrivati in un punto in cui il fiume Drillo si ricongiunge con il mare. Lo spettacolo che si presenta ai nostri occhi è veramente incredibile. Questo fiume una volta pollulava di vite e adesso? Sì, adesso una volta la gente veniva a pescare e qua c'erano varie specie di pesce acquadolce, ora è diventato un pantano, se voi vedete. Il problema, appunto, potete notare i bidoni di fitofarmaci lasciati sempre in bella vista a rovinare questo spettacolo stupendo del mare, però come avete notato prima il divieto di balneazione si trova a qualche centinaio di metri dall'accesso a mare, a spiaggia e io quello che dico sempre purtroppo come oggi ci sono dei bagnanti che ignari fanno il bagno non sapendo che c'è un divieto di balneazione e per gravi motivi quindi bisognerebbe anche indicare sulla spiaggia che questo tratto di mare non è adatto alla balneazione, alla pesca, cosa che avviene regolarmente. C'è anche chi sfida, diciamo, la sorte in questo caso e si va a fare un bagno in questa zona ed è veramente pericoloso. Sì, però ripeto, tranne i residenti che ormai sanno tutto della situazione o anche con le persone con un po' di intelligenza guardando quello che c'è attorno dovrebbero evitare di farsi il bagno, di pescare che è appunto vietato per legge però io dico sempre che un visitatore o qualcuno che viene da fuori si fa la passeggiata si fa il bagno in questa zona e speriamo che Dio ce la mandi buona. Anche le analisi comunque che sono state effettuate qui alla Foce hanno dato pessimi risultati. Sì, sono visionabili nel sito del Ministero dell'Ambiente delle Acque e praticamente hanno aumentato il divieto di balneazione che una volta era verso Gira di 200 metri e una l'hanno portato anche verso la zona di Scoglitti. Quindi i livelli sono sbalzati anche da teste fatti dall'ARPA in maniera esponenziale. Se poi tenete conto che abbiamo visto quello che buttano per chilometri nelle rive del fiume potete capire di cosa stiamo parlando. Ci vorrebbe sicuramente un intervento straordinario da parte anche della Regione che stanzi i fondi necessari per ripulire questo che si presenta come un paradiso se lo si guarda con gli occhi di chi magari non vede il degrado che ci sta attorno e si limita a guardare le bellezze naturalistiche del fiume di Rillo e anche del mare di Marina di Acate. di Marina di Acate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti